Musica Questa mostra sarà una vera sorpresa in Italia. Il pubblico si aspetterà di vedere i grandi capolavori di Fermet isolati come pittura prestigiosa e preziosa da godere. In realtà sarà una presentazione dell'opera di Vermeer in una sua crescita culturale da un primo inizio giovanile fino alla tarda maturità in un crescendo, in un contesto poi che è il contesto straordinario dell'arte olandese degli anni dal 1650 al 1670. Vermeer effettivamente è condotto per mano da una serie di dipinti sviluppati per argomenti diversificati per temi, per soggetti con riferimenti culturali che sono a volte da scoprire a volte più espliciti. C'è un filo conduttore quindi che è quello dei rapporti che saranno la grande novità della mostra con l'arte olandese del tempo con alcuni nomi che diventeranno finalmente familiari tra gli italiani come Ter Borco o Peter De Hock grandi artisti contemporanei che hanno condiviso con Fermet le tematiche i soggetti di pittura borghese la rappresentazione della donna con un certo taglio libero la rappresentazione della luce dei valori della famiglia si inizia con una presentazione della pittura di architettura che è stato un fenomeno artistico importantissimo di longhiana memoria tra l'altro anche nella tradizione critica italiana da cui si può capire e sarà chiaro anche per il pubblico come l'ottica lo studio della prospettiva siano pervenuti all'artista non così per caso ma attraverso una scuola pittorica una tradizione artistica molto chiara che ha avuto poi dei fenomeni di riacutizzarsi dopo il 1650 quindi proprio nell'epoca in cui l'artista più o meno iniziava la sua formazione la mostra è prima di tutto la possibilità di conoscere la società olandese ancora forse più che l'unicità dell'arte di Fermet una società molto interessante vorrei dire modernissima flessibile di grande intraprendenza con dei valori assoluti che erano la famiglia la donna la capacità della donna di temperare le discordie di tenere ordine in casa in famiglia la musica come valore importante per la crescita della persona dietro a questo contesto c'era un mondo culturale molto ricco la diffusione di poesia petrarchesca repertori di poesia amorosa repertori per il comportamento delle fanciulle la cultura di Konstantin Huygens un letterato umanista che ha diffuso in Olanda la pittura italiana essendo un grande collezionista che era un collezionista di trattati di architettura con il quale probabilmente Vermeer entrò in contatto riuscendo quindi a arrivare a conoscere in modo più approfondito la cultura umanistica è un percorso comunque di cultura olandese in cui l'arte di Vermeer del nostro artista emerge in un crescendo come ho detto all'inizio anche pittorico da un inizio di imitazione dalla pittura italiana come nella Santa Prasede da un inizio di rapporti con l'arte dei caravaggeschi come nel bicchiere di vino del primo piano che è inserito in un contesto di soggetti borghesi della società della borghesia mercantile del tempo gradatamente si passa a una pittura in cui Vermeer inserisce un nuovo valore che è l'osservazione precisa dei passaggi di luce lenticolare cosa che avviene sicuramente attraverso l'uso della camera oscura e che tuttavia conduce Vermeer a una proposta proposta in cui la rappresentazione del vero e della realtà non sono il fine ma sono semplicemente uno strumento fa parte di questo percorso in crescendo anche un dipinto che è posto all'inizio della mostra perché effettivamente la mostra non vuole semplicemente dare un supporto cronologico matematico che è la stradina un quadro della fine degli anni 50 che è una rappresentazione di una strada di Delft nella quale la rappresentazione del vero realizzato sicuramente con la camera oscura in realtà è una medium per rappresentare ciò che quel paesaggio vuole prefigurare nei sentimenti di chi lo guarda quindi un quadro di natura evocativa più che di volontà verista di rappresentare il vero a tutti i costi questo passaggio graduale comunque il pubblico lo potrà leggere in modo quasi definitivo nelle opere dell'ultimo piano in questo crescendo dove la rappresentazione di Vermeer si fa sempre più vicina al vero con la capacità di rappresentare alla perfezione il pulviscolo atmosferico i colpi di luce che colpiscono le figure in modo anche irregolare quasi per rappresentare come nella fanciulla col cappello rosso di Washington il gesto veloce di chi si gira portato dai propri sentimenti ma scorgiamo che nell'allontanarsi sempre di più gradatamente dai soggetti all'italiana dalle iconografie italianizzanti o da temi cari alla pittura italiana gradatamente Vermeer si avvicina alla universalità della cultura umanistica italiana cioè riesce attraverso il fatto pittorico della rappresentazione del vero a trasformare il vero in valori geometrici assoluti universali tutto trasfigurato e reso in qualche modo universale quindi in qualche modo reso astratto per arrivare alle vette di Piero della Francesca o di Raffaello quindi la sua cultura si raffinò a tal punto che gli permise di arrivare a valori universali molto più rispetto ai dipinti iniziali dove i rapporti con l'arte italiana dal punto di vista iconografico sono effettivamente più evidenti ed è questo un percorso che è un percorso pittorico ma poi anche un percorso sentimentale che si svolge con l'aiuto e la forza dell'arte olandese del tempo proprio perché il fenomeno Vermeer non è stato un fungo isolato ma ha avuto un continuo una continua contestualizzazione e la mostra tra l'altro con grande precisione presenta le varie fasi quindi la rappresentazione di interni il ritratto la musica gli interni tutto ciò quindi per permettere al pubblico di capire facilmente questa pittura è di portarsi a casa un patrimonio che poi per tutta la vita avrà dentro perché una mostra di arte straniera così completa certo è un fatto molto raro di capire Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.